Rioniti nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia gli stati generali dell'edilizia scolastica. Assessore Ruscelli, un'iniziativa annunciata perché c'era bisogno di fare il punto della situazione su una tematica così delicata e anche per, purtroppo, perorare ulteriormente una causa per la quale per ora non ci sono trovate orecchie troppo attenti. Noi sono anni che lanciamo l'allarme sulla criticità della situazione dell'edilizia scolastica. L'abbiamo fatto prima, discutendone in Consiglio Provinciale, approvando anche ordini del giorno all'unanimità che andavano nella direzione di ridurre i lacci e i lacciuoli che bloccano gli investimenti, di rivedere il patto di stabilità, di limitare i tagli. Tutti questi appelli sono andati inascoltati e nell'arco degli ultimi tre anni vi è stato un irrigidimento costante del patto, una limitazione della capacità di fare investimenti degli enti locali e tagli sempre più cospicui. Per cui era necessario, anche alla luce di un contesto istituzionale molto complesso, quale quello nel quale siamo, che preannuncia riforme che poi non vengono portate a compimento, nel quale non si è capito ancora di chi sarà, qualora le province dovessero essere eliminate la competenza in futuro dell'edilizia scolastica, per capire che cosa succederà nelle nostre scuole. Siamo molto preoccupati, speriamo che il decreto sullo sblocco dei pagamenti produrrà qualche beneficio, anche se noi siamo un ente parsimonioso che ha al dicembre del 2012 effettuato il 95% dei pagamenti e quindi per l'anno 2013 se ci saranno benefici deriveranno più da un'interpretazione della norma e da un'applicazione rigida della stessa. Abbiamo una decina di milioni di euro di lavori cantierabili che speriamo di riuscire ad iniziare almeno alcuni di questi entro la fine dell'anno. Sicuramente vorremmo iniziare i lavori presso il liceo scientifico Città di Piero di Sansepolcro, un investimento da 2 milioni e 20, perché siamo, vedete, anche in una situazione ridicola nella quale lo Stato a volte e le regioni ti danno dei cofinanziamenti per realizzare un intervento, poi il patto di stabilità ti impedisce di spenderli e si rischia con il passare del tempo di perderli anche questi investimenti. Per cui unitamente alla situazione delle manutenzioni, che è veramente molto complessa, siamo passati da una media di 1 milione e 200 mila euro all'anno per fare le manutenzioni delle nostre scuole a circa 100 mila euro quest'anno. Insomma, c'è bisogno veramente di cambiare marcia, di un governo e di un Parlamento operativi che alleggeriscano il patto di stabilità e, indipendentemente da quello che sarà il futuro della provincia, che ci permettono di fare subito una serie di interventi, per i quali, lo ripeto, da anni siamo pronti. 5-10 milioni di euro di interventi sulle scuole subito se il Paese lo vuole.